Paolo Ceccaroli non è solo il manager della Nazionale Sperimentale PO, è anche il pitching coach del San Marino e riduce quindi da tre settimane particolarmente intense. Come hai vissuto questo settembre con tantissimo baseball e anche tantissima pioggia? Come hai detto tu, il fattore tantissimo baseball va benissimo, purtroppo tutta l'acqua che abbiamo preso anche durante le settimane, partite rimandate, viaggi a vuoto il clima che si è raffreddato di colpo e penso che sia stata una delle concause degli infortuni dei nostri lanciatori a San Marino di Solbach e Hernández è stata la cosa negativa della serie, è stata una cosa abbastanza pesante soprattutto come hai detto tu per troppa acqua e rimandare le partite, i viaggi a vuoto, insomma una cosa difficile da gestire però alla fine per fortuna siamo riusciti a arrivare in fondo e ci è mancato proprio un lancio alla vittoria, un lancio. Adesso andiamo avanti. Intensità, il Ciga è uno dei rappresentanti più illustri della nazionale italiana che fra anni 80 e anni 90 ha avuto un ciclo di grande successo che possiamo così definire quello del Club Italia. A livello di intensità un paragone fra il vostro gruppo e quello di questa generazione di ragazzi su cui stai lavorando in questo momento? Allora noi abbiamo avuto la fortuna da ragazzi di avere come esempi a Rimini Mike Romano, Edoardo Rizzi, a Parma Ronnie Kaufman, Bob Ciccone, a Bologna c'era Rocky Sean, insomma in ogni posto, qui a Nettuno, Sanders, Oliveros, erano giocatori che giocavano sempre al 110% e non avevano difficoltà a correre contro un muro e per noi diciamo che è una cosa normale. Diciamo che adesso ai nostri giovani è mancato un po' questo esempio. Adesso si sta lavorando, io almeno sto lavorando per riprovare a rimettere anche in questi ragazzi, far uscire questa mentalità, riuscire a inculcarla. Ci vuole un po', perché se non… a noi era innata, perché fin da piccoli vedono giocare questi giocatori che magari tecnicamente non erano di altissimo livello, però come avevano l'intensità, davano sempre il 110%, per noi è diventata una cosa veramente così, veniva naturalissima. Adesso si lavora per provare a inculcarla anche in questi giocatori qua, penso che sia uno degli obiettivi principali a cui dobbiamo giungere. Qui a Nettuno due partite di sette inning, vinte tutte e due in rimonta al settimo, quindi è un bel segnale. Sì, sì, è un bel segnale. Poi soprattutto contando che avevamo con noi molti giocatori, alcuni che erano fermi da un po', altri che erano parte sia del San Marino che del Bologna, perciò reduci da queste sette partite che sono state abbastanza pesanti, anche e soprattutto a livello mentale, oltre che fisico, perciò sono abbastanza soddisfatto del risultato, ma soprattutto dell'impegno che hanno messo i ragazzi. Diciamo che l'impegno c'è stato e l'attenzione, nonostante che fossero due amichevoli, sono state giocate con la massima attenzione, certo, pretenderemo sempre meglio, e poi ci sono state anche delle belle indicazioni da molti soggetti che andranno tenuti d'occhio, soprattutto nel prossimo futuro. Infatti cerniere di centrocampo, diciamo, molto positive, belle giocate, e parlando con Paolo Ceccaroli non si può non chiedere invece un commento sul pitching staff. I lanciatori mi sembra che sono andati benissimo, hanno lanciato molto bene, anche quelli tra virgolette meno esperti, anche quelli, non si poteva chiedere a Bassani dopo essere stato l'MVP delle Final Series del campionato, di essere il Bassani di tutto il campionato sicuramente, è arrivato qua, ce l'ha messa tutta, quello che aveva l'ha dato, perciò Alex oggi magari era un po' sottotono, però è uno di quelli su cui il monte di lancio italiano adesso è uno dei migliori lanciatori che sono in Italia sicuramente, ma anche i giovani si sono comportati bene, quelli meno esperti, io sono molto soddisfatto, e poi soprattutto ho visto un'Andretta rispetto all'anno scorso, è cresciuto tantissimo, e mi sembra che sia pronto per puntare a traguardi sempre più alti. Come tutti gli azzurri, grazie Paolo. Certo, prego.